3-0 Fasullo Avete sprecato l'impossibile per l'1-1 Poi a tre minuti dalla fine è arrivata la seconda rete che ha ammazzato la partita Sì, quello sì Stavamo provando in tutti i modi a reagire Un'altra piccola disattenzione su un rimpallo E gli altri bravi fino a un certo punto Adesso arriva la capolista reggiana Ancora più dura e fare punti e ricominciare la stagione Vorrei dire che ci impegneremo ancora di più in settimana E visto che giochiamo di nuovo in casa Vendremo cara alla pelle Ottima prestazione a livello personale Sale anche Calamai, bene tra i pali di Lorenzo Questo Prado comincia a dare fiducia ai giovani? Sembrerebbe di sì Speriamo che ci sia sempre più spazio E con le vittorie ci sarà di sicuro Ciao! 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 Ciao!